Buonasera, ben trovati a Infopoint, comincio subito a emergervi in un mondo molto affascinante che è quello di Silvia Denti, buonasera, che è tante cose, diciamo che lei è immersa nel mondo dei libri a 360 gradi, ce ne hai portati giusto tre dei quali poi adesso chiacchieriamo, prima volevo un po' scoprire bene chi sei, anche per chi a casa magari non ti conoscesse ancora, allora raccontaci un pochino come è nato questo tuo avvicinarti al mondo dei libri, un bel giorno hai iniziato a scrivere, sei sempre stata appassionata? Sono sempre stata appassionata, sin da bimba amavo scrivere, quando si comincia da bambini si comincia col diario famoso, con la piccola poesiola per la scuola, poi a scuola avevamo un giornalino, avevamo un insegnante molto clemente per gli appassionati e abbiamo creato un giornalino e da lì... Bellissimo, sai che anch'io mi ci ritrovo, anch'io avevo il mio diario, anch'io scrivevo sul giornalino, effettivamente è vero che sono quei primi step che ti avvicinano molto al mondo della lettura. Poi l'età dell'adolescenza porta quasi tutti a scrivere qualche frase, poesia, qualcosa che... o ti fermi o vai avanti. O vai avanti, nel tuo caso sei andata avanti. E il tuo primo libro che hai scritto cosa riguardava? Riguardava a me, riguardava... avevo vinto un concorso letterario, mi hanno telefonato e mi hanno detto da Roma hai vinto questa cosa e le coppie di questo libro, ne ho ancora a casa, è molto... sì, non rinnego nulla perché chiaramente sono dei passaggi e delle evoluzioni e ogni tanto me lo riguardo e cerco di rivivere quei momenti là, avevo 18, 18, 18 anni, un'età così, insomma ecco. È un libro che si intitola Io ed intorni per parlare di me, della mia adolescenza, dei miei problemi. Però bello perché è stato appunto il primo, poi da lì tu comunque hai continuato. Sì, sì, sì. E non c'è più fermata, cioè non c'è più stato verso di fermarla Silvia. No, io no, il mio sogno è sempre stato quello di scrivere, poi ho lavorato anche come giornalista, mi seguito, quindi così non ho mai abbandonato la passione, ma la vera chicca per me è sempre, io vengo proprio dalla poesia, scrivere la poesia, perfezionarla e cercarla, la ricerca poi, l'incontro con tanti autori che ci sono, così che ho incontrato per la mia strada, bravi meno bravi, poi la scoperta del movimento, diciamo, letterario l'inquietantismo al cui ho dato io il nome e che rispecchia appunto gli ultimi 30 anni di scrittura, per delle caratteristiche che ha, insomma, che io ho inquadrato, diciamo. E niente, poi ho cominciato a lavorare per delle case editrici, sempre piccoline, via via, fino ad arrivare a Ruppe mutevole edizioni. Esatto, raccontiamo che cos'è Ruppe mutevole, Ruppe mutevole edizioni. Ruppe mutevole edizioni è una case editrice minore, però si distingue innanzitutto per la qualità dei libri e poi anche per questa passione che hanno entrambi gli editori, perché sono marito e moglie e io li ho incontrati nel momento della mia vita in cui sognavo e continuavo a sognare di riuscire a fare delle cose non speculando sulla gente. E ho trovato, sì, perché ci sono molte case editrici minori che vanno a speculare, chiedendo un mare di soldi. Ti dicono, va bene entero pubblico, però chiedendo di dare tot soldi. Poi non correggono nulla, ma accettano tutto, come ti dicevo, quei dieci poeti o romanzieri, saggisti ce n'è, che ti arrivano ogni giorno, per loro andavano tutti bene, cioè vanno tutti bene perché ce ne sono e pullulano. E sì, perché se il meccanismo è quello del guadagnare, basta prendere dei soldi. Allora così no, io ho lavorato per delle case editrici così, io cercavo comunque di impostare i libri sui quali io mettevo la mia firma, diversamente però poi c'erano gli scarti, cioè io gli chiamo gli scarti, ma in realtà è così. Alla fine si discuteva, si litigava, no, ma tu non puoi dirti no a quest'altro. Invece ho incontrato Marco e Cristina, che sono i titolari di Gruppe Mutevole, che la pensano esattamente come me. Quindi se riuscite, esiste, attenzione, perché è importante sapere che esistono assolutamente invece degli editori che ci credono. C'è una selezione, poi certo si dà anche la possibilità a quello che deve crescere, deve zoppica un poco. Io per carattere e per passione sistemo i file che mi arrivano, mi piace farlo, mi piace aiutare gli autori, dare dei consigli, non perché io sia chissà chi o abbia, però ho un po' di esperienza, ce l'ho e quindi mi fa anche piacere quando li vedo contenti, che realizzano questo loro desiderio e poi magari riescono anche a vendere delle belle copie. E la cosa che tu dicevi prima, il fatto di girare, io giro l'Italia per presentare questi autori, un po' presento i miei libri e poi presento anche loro, come è successo questa settimana a Cagliari. Quindi è bella l'idea che ci sia proprio la voglia di aiutarli questi autori che probabilmente, insomma, soprattutto in un periodo come quello che viviamo oggi, farebbero molta fatica probabilmente ad aprirsi una qualche strada. Credo di sì. Questo diventa una bella opportunità. Sì, poi, chiaro, noi non abbiamo la pretesa di essere dei mondadori, dei rizzoli, quello che vuoi, però abbiamo avuto dei buoni riscontri anche da parte di nomi importanti come, non so, Enrico Nascimbeni che ha scelto noi come cassaeditrice, Simone Tomassini che è un cantante, però è un cantautore, però ha deciso comunque di pubblicare un libro tra l'altro molto carino, con noi, Gavino Angius che è un grande editor e un critico letterario nonché scrittore, voglio dire, gente che non è andata dal primo, insomma, hanno preferito così stare con noi. Bella, lunga la qualità paga, secondo me. Sì, no, i nostri libri veramente sono ben fatti sia nella grafica, nell'attenzione che poniamo, quando li assembliamo, eccetera, e anche nella cura delle correzioni, dei file, insomma, non trovi degli errori, non so. Diciamo che c'è una grande attenzione nel farli. Certo, può sfuggire, la svista, il refuso, tutto quello che vuoi, però, insomma, fino a un certo punto. Poi abbiamo delle belle copertine, usiamo una carta particolare, quindi si presentano anche bene, piacciono parecchio. No, no, è vero, sono molto belle. Adesso ve li facciamo vedere. Facciamo così. Parto, mi piace l'idea di guardarli un po' tutti e tre, quelli che mi hai portato. Parto da Vibrus, ve lo faccio subito vedere. Questo libro, eccolo qua, di cosa parla? Questo è un romanzo, è un romanzo ambientato nel 2084. Ah, però! Fino a era l'idea di un possibile futuro, di quello che potrebbe accaderci tra un 80 anni, 70 anni, riguarda appunto la comunicazione telematica, la mancanza di, cioè ci siamo immaginati, io e altri autori, perché l'abbiamo scritto Ioannilli, sì, di evidenti, Maurizio Klicek. Sì, è di origine, è triestino. Ah, triestino. Pietro Pavia e Viviana Ferrari. Sì. Caspita, che deve essere anche difficile riuscire a scrivere a più mani. No, non è facile, infatti poi lo noti diversi stili, ma sono volutamente lasciati differenti anche per far capire, perché ognuno di noi porta un personaggio, anzi io ne porto tre o quattro per esempio, sì perché c'era bisogno di personaggi in più nel libro, quindi... Beh, è un bel libro corposo, ma tu sei fiduciosa nel guardare avanti, perché stavo guardando che la collana si chiama La quiete e l'inquietudine. Beh, viene dalla mia corrente letteraria l'inquietantismo, perché dalla quiete c'è nasce l'inquietudine e viceversa, però io credo che la persona che scrive può dare tanto, tanto di più quanto più è inquieto. Vero. Io credo che sia così. Poi certo io ho dei libri molto pacati e li chiamo i falsi inquietti o vari nomi che io amo dare a loro, però sono dei libri godibilissimi, che piacciono, che vengono letti, ma il vero inquieto non smette mai, cioè non si ferma mai, fa un po' quello che faccio io nella vita, in tutti i sensi. Non si ferma mai, ha bisogno di ricercare, di trovarsi, di trovare, di scambiarsi con tanta gente, con tanti come lui. Con i libri. E vive questo male di vivere, diciamo così, l'esistenza che comunque tutti, anche nel passato, nella storia, chiunque possiamo andare a leggere, soprattutto chi ha scritto, c'è stato il periodo o di conversione, o religiosa, o la sofferenza, o la rivisitazione della propria anima, chiamiamolo così. Insomma, quindi tutti dobbiamo attraversare queste fasi per crescere, per invecchiare. È vero, è vero, e poi come vedete gli spunti che vengono fuori sono tanti. Devo lanciare la pubblicità, ma ci ritroviamo tra pochissimo, restate con noi. Ben ritrovati, consigli ad enti, stiamo parlando del mondo in generale dei libri, e poi più in dettaglio di quella che è proprio stata un po' la tua scelta, il voler andare verso una casa editrice che comunque crede molto nella qualità, il voler fare dei libri che abbiano davvero un senso, e trovo che questo sia davvero molto molto importante. Prima di passare anche agli altri due libri che mi hai portato, volevo chiederti una cosa che ho notato molto spesso, anche qui a Infopoint, mi capitano spesso ospiti che scrivono. Oggi come oggi sono tanti, giovani e meno giovani, perché poi lo si fa ad ogni età, che si cimentano e si mettono a scrivere. Certo. Questo crea un po' un delirio nel panorama editoriale, cioè come ci si orienta poi in tutto questo mare di scrittori che si cimentano? Beh, come ti dicevo prima, questa è, diciamo così, merce buona per chi ci specula, e la gente pur di avere magari un libro pubblicato è disposta a desborsare parecchi soldi. E ne approfitto per dire quindi diffidate da quelli che chiedono soldi, perché ovviamente ci speculano probabilmente. È ovvio che le case editrici minori non possono stare in piedi se non hanno un aiuto, l'aiuto deve essere reciproco, però Rubemotevole cosa fa? Mette l'autore in condizioni di guadagnarsi la sua percentuale e poi lo sostiene, lo pubblicizza, lo fa girare. Quello fa tanto. Cioè il fatto che io vada fino all'altra parte dell'Italia vuol dire che ci tengo e voglio vederli questi autori, giovani, meno giovani, a parte che ci sono tanti giovani che meritano veramente, e quindi li sostengo, loro acquistano più sicurezza, più fiducia in loro stessi e vanno avanti, c'è una cosa bellissima. Per quello ti dicevo, io vengo dalla Sardegna dove... Mi fanno chiederti cosa hai combinato in Sardegna, cosa avete fatto in Sardegna? Tu non sei mai ferma? No, beh, c'erano... ho sostenuto questi cinque autori che sono esibiti, che non è come qui al nord. Da loro è molto sentita la poesia e in questi caffè letterari loro fanno veramente spettacolo. Quindi questi cinque giovani, quattro molto giovani, poi c'era una persona più o meno della mia età, non giovanissima comunque, e con l'accompagnamento delle chitarre, la musica, ognuno con la sua performance. C'era un ragazzo che ha voluto fare un po' una performance teatrale addirittura recitando quello che scrive. E a me è piaciuta molto sta cosa, veramente, a parte che sono bravissime, cioè, la qualità altissima. E poi è uno spettacolo, c'era il pienone. Quindi questa cosa a me solleva parecchio perché dico, allora c'è la gente interessata alla cultura, non è vero che non c'è. Basta stimolarla nella maniera giusta. Poi invece abbiamo fatto sempre il giorno a seguire la presentazione di incontro che io ho scritto con Gervino Angius. Siamo stati invitati da un'autrice in erba, una ragazza giovane però veramente brava, una studentessa ancora, che ha preso spunto dal nostro libro per scrivere un trattato di filosofia. Caspita! Quindi, sì, e quindi nella presentazione del libro ci sono dei pezzi in cui c'è un pezzo mio, un pezzo di Gervino Angius e l'intervento di questa ragazza. Ed è veramente uscita una cosa meravigliosa. È piaciuta a tutti e anche lì abbiamo avuto un grosso riscontro di pubblico e anche di esperti del settore, no? Veramente. Caspita, due cose bellissime. Da un lato che si possa credere nei giovanissimi, perché è molto bella l'idea di trovare davvero grandi doti nei giovanissimi. Sì, sì, sì. E due, come dicevi tu appunto, c'è la passione, c'è l'amore. Cosa si deve fare per riuscire a tirarlo fuori? Dicevi che forse ad esempio appunto in Sardegna è più sentito come... Sardegna però 15 giorni fa anche a Palestrina vicino a Roma ho presentato una ragazza giovanissima 22 anni e ha scritto un romanzo carino. E anche lì il teatro era pieno di gente interessata alla cosa e poi molti giovani presenti, certo alcuni amici di lei, di questa ragazza, ma coinvolti nel dibattito, nelle domande che venivano poste a lei direttamente e anche a me, perché... e quindi vedere questi giovani interessati è molto bello, molto stimolante, capisci? Qui diciamo in Lombardia c'è più... forse sono un po' più chiusi ma comunque a Parma per esempio, anche qui un mese fa, a parte il freddo, abbiamo beccato due giorni freddissimi, però anche lì un altro caffè... abbiamo fatto una grigliata letterale. Però non è male. Carina, sì, anche lì è carina. Poi siamo stati in una chiesa, diciamo una chiesetta di proprietà privata, sconsacrata, dove c'erano tantissimi artisti, non solo scrittori ma anche scultori, pittori. Sì, anche questa cosa dell'unire le arti mi piace molto. Certo, io la chiamo un po' la multi art, è una cosa bellissima, meravigliosa. Quindi quando vedi tutte queste teste che si uniscono, che pensano e mettono assieme qualcosa, poi la musica, la musica è importantissima. Da tanti trasmette le emozioni in tempo zero, quindi... L'ho visto proprio due giorni fa con le chitarre per accompagnare queste letture che hanno guadagnato moltissimo termini di effetto. È bello perché poi ognuno si arricchisce, quindi è molto bella l'idea che ci sia anche un po' questa rete, questo lavoro congiunto, tutti quanti prendono qualcosa, quindi è molto bello. Bello anche l'atmosfera che mi racconti, perché mi piace l'idea che davvero si possa vivere, si possa proprio toccare con mano. E quindi speranza, mi dai un bicchiere mezzo pieno. Beh, io dico che chi ha voglia di fare arte, ti ho parlato del mio sito, non ospito solo scrittori, anzi, io ospito gruppi musicali in erba, diciamo in erba, magari suonano da molto però non sono famosi. Esatto, magari sono bravissimi già da tempo ma non sono tanto conosciuti. o anche pittori, scultori, la fotografia, la fotografia è molto sentita. www.divinafollia.altervista.org, così intanto l'hanno vista in sovraimpressione. La fotografia, quindi dicevi anche, tanti generi. Io, sì, vorrei spendere due parole, adesso stiamo pubblicando un libro proprio con Ruppe Mutevolo e di una fotografa, fotografa del dettaglio, ed è bravissima, si chiama Mirna Rivalta, ci tengo a così a dirlo perché insieme a Marco De Mattia che è un autore scrivono, stanno preparando un libro composto da fotografie e scrittura, molto belle queste cose, queste cose riempiono proprio il libro, l'anima, poi quando le rappresenteremo, perché lei già sta facendo delle mostre in giro, con la lettura sarà molto suggestiva la cosa, sì, 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 sì. Allora mi tengo aggiornata, basta andare sul sito e si trova tutto qua. Sì, perché poi sul sito metto gli appuntamenti, racconto com'è andata, com'è andata, gli eventi. Ma è mezzo migliore, per essere subito diretti con la gente. Certo, c'è i vari, come si chiama? Facebook. Facebook, ecco appunto. Facebook, MySpace, Twitter, io ci sono dappertutto. Infatti dico, ragazzi, io non potrei fregare nessuno, tra virgolette, no perché ci sono case editrici veramente, vengono da me tanti autori letteralmente derubati, derubati e truffati, io non faccio nomi di case editrici, non mi permetto, però è così, è una realtà e bisogna combatterla. Benvenga chi ci mette la faccia e chi dimostra invece di essere assolutamente professionale. Io no, no, io ci sono, sono sull'elenco del telefono. Non ho problemi. Su quello non c'è dubbio. Abbiamo giusto due minuti, ma mi piaceva anche l'idea di parlare di Mujer Naturalessa. Sì, questo libro è un altro libro che ho scritto con due autori amici, una è Rossella Cea, l'altro è Roberto Ioannilli, anche lì a tema sugli elementi dell'universo, mare, terra, cielo, acqua, amore, sessualità, donna. L'abbiamo chiamato donna prima di tutto perché siamo due donne contro un maschietto, ma anche il maschietto diciamo che ha delle bellissime idee e quindi ci siamo confrontati per esempio scrivendo dei pezzi, il mare, tu come lo vedi? Io lo vedo così, io lo vedo così, io lo vedo così. Ma dai, bellissimo. E poi io adoro la poesia, chi segue Infopoint sa io quando riesco a parlare di libri, ma davvero anche di poesia perché trovo che purtroppo per tanto tempo la si sia sempre un po' legata a quel genere noioso, pesante, da scuola, dove te la fanno imparare a memoria che proprio non ti va e invece la poesia è favolosa, credo che sia quella più diretta. Ma io sto veramente, rispetto agli anni in cui io avevo 18, 20 anni, adesso si sta un pochino riscoprendo maggiormente, forse grazie a questi, così, questi caffè letterari che sono nati, questi sindaci alcuni li ho trovati disponibili ad ospitare nei teatri, nelle biblioteche, questi autori, insomma, soprattutto al sud, io pregherei anche il nord di associarsi a questa cosa. Bello questo appello. Eh sì, il nord è un po' freddino. Meno freddini, più passione, più emozione, che qui c'è tanto da vivere, è bellissima l'idea davvero di unire i libri alla musical, al fare davvero quasi delle performance che consentano di immergersi nell'atmosfera. Poi vai e scopri dei talenti, no? Veramente. Vero, no, no, è vero, diventano delle belle opportunità. Grazie Silvia. Grazie a voi. Ci hai raccontato, beh, so che ci vorrebbero ancora altre ore, eh, per raccontare tutto. Non ci sono problemi. Vi abbiamo dato un po' un'infarinatura, diciamo che un po' c'è questo messaggio, se vi piace scrivere, sentite che davvero ci siete portati, provate, state attenti ad andare nel settore giusto perché è davvero molto difficile orientarsi oggi come oggi. Contattate Silvia su Facebook, che la trovate, Silvia Dentro. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Pubblicità e noi ci ritroviamo qui tra pochissimo. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a tutti